Ancora un ultraleggero precipitato, fortunatamente senza conseguenze. L'incidente è le 16.30 di oggi pomeriggio tra i vigneti di Vidor, poco lontano dall'aviosuperficie di San Fiorno di via Sarnaglia. Il velivolo, poco dopo il decollo, è precipitato tra i filari. Il forte vento, con tutta probabilità, la causa. Sotto shock ma illeso il pilota, tanto che non si sono resi necessari né l'intervento del suo M118 né quello dei vigili del fuoco. Supposti carabinieri di Montebelluna e il sindaco Albino Cordiali.